Oggi la Lega per Salvini Premier, insieme ai radicali, ha depositato presso la Cassazione i sei quesiti referendari che riguardano la riforma della giustizia. In particolar modo si chiede la modifica delle elezioni del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abrogazione della legge Severino per tutelare i sindaci. Dal 2 luglio noi come Lega saremo nelle piazze per raccogliere le firme necessarie, quindi invitiamo tutti i cittadini a partecipare, perché in Italia c'è bisogno di una riforma della giustizia, perché in Italia abbiamo bisogno di una giustizia più equa e più giusta. Grazie